buongiorno carissimi viviamo il tempo pasquale e meditiamo la grande misericordia di dio operata per l'umanità nella passione morte risurrezione di gesù carissimi vorrei aggiungere qualcosa ancora a riguardo alle opere di misericordia gesù nel vangelo quando leggiamo dice a ogni cristiano siate misericordiosi come il padre vostro è misericordioso amatevi come vi ho amati io oppure qualunque cosa avrete fatto al più piccolo tra di voi lo avrete fatto a me e ancora beati i misericordiosi perché troveranno misericordia diceva gesù a santa faustiva da te voglio opera di misericordia che derivino dall'amore che hai per me devi mostrarti misericordiosa verso gli altri sempre dovunque e poi gesù dice attraverso santa faustina a tutti noi se un'anima non opera in qualche modo la misericordia verso il prossimo non conseguirà la mia misericordia nel giorno del giudizio e poi dice a santa faustina scrivi per le molte anime che si affliggono di non possedere beni materiali per cui si credono impotenti a fare opere di misericordia che la misericordia dello spirito ottiene meriti anche maggiori ed è possibile a ogni anima realizzare queste opere spirituali quali sono le opere di misericordia dello spirito abbiamo proprio nel catechismo della chiesa cattolica ecco l'elenco la prima consigliare i dubbiosi la seconda insegnare agli ignoranti la terza ammonire i peccatori la quarta consolare gli afflitti la quinta perdonare le offese la sesta sopportare pazientemente le persone moleste e la settima pregare dio per i vivi e per i morti carissimi del gruppo rosario vivente e cenacolo mariano abbiamo il mezzo molto potente che il santo rosario di queste opere di misericordia spirituali possiamo realizzare tutte ma in modo particolare la settima opera della misericordia cioè pregare dio per i vivi e per i morti allora carissimi preghiamo con grande gioia nel cuore il nostro santo rosario di ogni giorno perché così facciamo la misericordia verso gli altri siamo misericordiosi con gli altri aiutando loro con questa opera di misericordia pregare per gli altri poi carissimo vorrei presentarvi alcune raccomandazioni di gesù misericordioso date attraverso la santa faustina a tutta l'umanità a tutti noi nell'antico testamento dice gesù mandavo al mio popolo i profeti con le folgori oggi mando a tutta l'umanità a te con la mia misericordia non voglio punire l'umanità che soffre ma desidero risanarla e stringerla al mio cuore misericordioso non uso i castighi se non quando gli uomini mi costringono la mia mano impugna malvolentieri la spada della giustizia prima del giorno del giudizio mando il giorno della misericordia parla al mondo della mia misericordia che tutta l'umanità riconosca questa mia misericordia che è infinita è il segno degli ultimi tempi dopo di esso verrà il giorno della giudizio finché c'è tempo ricorrono tutti alla fonte della mia misericordia aprano il cuore al sangue all'acqua che sono scaturiti per tutti dal mio cuore trafitto suor faustina guardando a questo punto nel futuro esclama o uomini dove vi rifugierete nel giorno della giustizia del signore venite ora alla fonte della divina misericordia quanto è grande il numero delle anime che vedo in adorazione della misericordia di dio esse canteranno in eterno l'inno della sua gloria all'umanità immersa nel peccato il cuore di gesù offre un supremo incoraggiamento affinché nel culto della divina misericordia si inserisca l'attesa fiduciosa del ritorno del signore e dice a santa faustina segretaria mia scrivi che sono più generoso con i peccatori che con i giusti e per i peccatori che sono sceso sulla terra e per essi che ho versato tutto il mio sangue non abbiano paura di avvicinarsi a me nessuno ha tanto bisogno della mia misericordia quanto loro non posso punire neppure il peggiore fra tutti i peccatori se li fa ricorso alla mia compassione ma lo perdono per la mia misericordia carissimi annunziamo a tutti questa grande misericordia di dio a tutti voi auguro buona giornata buon proseguimento del tempo pasquale sia lodato gesù cristo